L'ultima cosa però, non vi preoccupa il fatto che venerdì possano entrare a Roma gli agricoltori, insomma anche per le regole che avete fatto in blocchi del traffico, dovrete applicare le stesse cose sugli agricoltori oppure... Se sono cortei autorizzati non c'è motivo di preoccuparsi, tutto quello che è autorizzato in democrazia va... Quindi comunque c'è la manosalda del ministro, l'obbligio al cesso gli agricoltori o nel senso c'è qualcosa che non va? Perché non protestano solo contro l'Europa, ma protestano anche contro alcune delle vostre iniziative, insomma, l'IRPEF e altre questioni? Protestano perché hanno motivo di protestare, il governo sta qui per raccogliere i problemi e cercare di risolverli, anche quelli che arrivano dopo 11 anni di governo del PD e del centrosinistra... E avete votato voi la PAC, insomma... Ma ci stai di cose che abbiamo votato, il problema è che il governo Meloni sta cercando di risolvere anche i problemi creati dai vostri governi, cioè i vostri... Io faccio giornalista nel senso... Sono in ruota ai vostri, sono dai governi del PD e del centrosinistra. Arrivederci.